Buongiorno a tutti i cittadini torresi, è stata fatta una conferenza da parte dell'ente idrico campano, che cos'è l'ente idrico campano? È il soggetto di governo regionale che si divide in sei ambiti, l'ambito che appartiene all'ambito del distretto sarnese-viosiviano comprende 75 comuni e la Gori è il soggetto delle risorse idiche di questi 76 comuni, dove Torre di Greco, quindi il sindaco di Torre di Greco, è componente dell'ente idrico campano e da questo ente dal 2 di novembre fino al 30 di dicembre si è data la possibilità di bonus per quanto riguarda le famiglie. In che consistono questi bonus? In particolar modo per un'isee inferiore o uguale a 12 mila Euro, il bonus consente di avere uno sconto per quanto riguarda la bolletta di 50 Euro per ogni componente del nucleo familiare e penso che in un momento così particolare è avere uno sconto su una bolletta, si è parlato che è stato l'ente idrico campano, quello che noi apparteniamo, è la prima realtà che sta dando degli sconti per quanto riguarda queste bollette, da dove arrivano arrivano ci sono aumenti enormi. Il richiedente deve presentare la domanda dal 2 di novembre fino al 31 di dicembre, ci sono varie possibilità, poi saranno date tutte le comunicazioni, perso gli sportelli della Gori o anche perso gli uffici del comune di residenza. Ci sono ben due mesi per fare queste domande. Inoltre, un'altra cosa importante per quanto riguarda sempre l'ente idrico campano, per l'amorosità, per coloro che sono in situazioni di disagio temporale causato da perdita di lavoro, malattia, altre condizioni di disagio debitamente certificate e con un'isee inferiore o uguale a 12 mila Euro, c'è la possibilità di avere un contributo per l'intera copertura dell'amorosità di 500 Euro e per la restante somma c'è la possibilità di un rateizzo di 30 serate mensili con una rata minima di Euro 25. È un qualcosa che praticamente serve alle famiglie, da parte dell'entri di campano con il gestore Gori c'è una vicinanza verso le famiglie, è stata già fatta la conferenza stampa e nei prossimi giorni verranno date tutte le notizie. Io ho già voluto che la mia città fosse informata e poi tre o quattro giorni prima dell'inizio della presentazione delle domande daremo altre informazioni più precise dove presentare la domanda, ma sia agli sportelli della Gori e sia al comune di appartenenza.